A seguito di un caso di positività al covid di un'educatrice registrato nell'asilo nido comunale Il Girasole di Via Diaz a Teramo, il comune ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura fino a mercoledì dell'asilo. Al momento non c'è alcun focolaio nella struttura pubblica, ma la chiusura è stata comunque ritenuta opportuna in attesa che vengano eseguiti tamponi tracciamenti. Abbiamo scelto la massima prudenza perché nei nidi il distanziamento è impossibile, ha dichiarato il sindaco d'Alberto, che torna a chiedere alla regione Abruzzo di rivedere e aggiornare i protocolli sanitari in tema covid, anche alla luce di una situazione diversa rispetto ai mesi passati. Una decisione presa nella giornata di ieri, abbiamo avuto conoscenza sabato della situazione di positività di una educatrice e nell'ottica della massima prudenza, tutela del diritto alla salute anticipata, abbiamo deciso, dopo aver sentito l'asilo, di chiudere per tre giorni in attesa di un tracciamento attraverso i tamponi molecolari che abbiamo chiesto venissero fatti subito e probabilmente verranno fatti. Abbiamo avuto rassicurazione dall'ASL sull'esecuzione nella giornata di domani, quindi mercoledì avremo il quadro più chiaro su quella che è la situazione di un nido che comunque attualmente è in gestione diretta e in via prudenziale. Abbiamo appunto deciso di interrompere l'attività cercando di limitare il più possibile anche il disagio per le famiglie, ma sempre nell'ottica della tutela del diritto alla salute della nostra comunità. È una fase nuova, è una fase nella quale appunto si sta vivendo una diversa gestione anche del covid all'interno delle scuole. Io credo che si debba assolutamente fare il punto con l'ASL e più in generale con la regione Abruzzo per una sorta di revisione dei protocolli che possano essere adeguati alla situazione che stiamo vivendo. Distinguendo anche le situazioni tra le scuole dove è più agevole costruire e costituire le cosiddette bolle per evitare che ci sia uno scambio anche di contagio tra diverse classi, diverse sezioni rispetto ai nidi dove la situazione è decisamente diversa. Quindi già nella giornata di sabato con l'assessore Core abbiamo avuto una prima interlocuzione con l'ASL e oggi proseguiremo.